buonasera dal millennium è appena cominciata per la minor league la partita tra l'atletico san lorenzo e l'atletico maracanà vediamo subito contro uno per andare via de vita riscopare pure la sbaglia vediamo l'ottima occasione adesso per il numero 9 che realizza la rete ovvero isernia e porti in vantaggio l'atletico maracanà isernia qui però l'errore e sta palla ancora avanza una volta l'atletico maracanà ancora una volta numero 6 in mezzo per il piscopo l'errore e qui c'è ancora una rete la rete ancora una volta da parte di isernia ancora un mezzo errore da parte di isernia ancora un mezzo errore da parte di piscopo che sembra ancora io e me io e me vediamo adesso lo scigno la palla per isernia gol non gol e vediamo che l'arbitro non assegna la rete in questo caso c'è qualche dubbio va a ripartire adesso alberini alberini il tiro e la rete di alberini prima per la partita franco alberini con un tiro dalla distanza sicuramente non per confessore confessore diamo io e meglio il mio avvia due avversari ancora io e me in mezzo per isernia e c'è la terza rete da parte dell'atletico maracanà ancora una volta isernia era nell'aria la sua rete e arriva adesso vediamo scarano contro alberini già ne ha parato uno questa volta nulla da fare per alberini portiere spiazzato e c'è il 4 a 1 di scarano amici che pratisce ancora piscopo piscopo sulla fascia destra il corso in mezzo la rispetta venire da parte del portiere De Francesco De Francesco il tiro e c'è la rete rete 4 a 2 a 3 di cosa Lorenzo che prova a dare un senso a questo finale di partita con la rete di isernia ancora isernia va via il suo diretto avversario ancora isernia isernia va via tutti gli avversari che vanno di fronte a lui e c'è la rete del 5 a 2 che rete amici che rete che ha fatto isernia ha scartato tutto non so per sbagliato ed è decisivo adesso miranda la palla per De Vita che prova a lanciarsi in avanti De Vita il tiro e la distanza c'è la rete 5 a 3 da parte di De Vita che prova a rianimare un po' la gara mancano io mi vediamo la palla in mezzo per scarano scarano la palla per confessore 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 il tiro e c'è la rete il 6 a 3 che chiude completamente la gara arriva finalmente la rete di Yohime sicuramente meritata commento per l'isernia confessore spazio per il tiro e c'è anche la rete del 7 a 3 qui diciamo non se l'aspettava forse a bere il tiro a lunga distanza per l'arbitro finisce qui l'atletico Maracanà batte l'atletico buonasera sono Achille Senna dell'atletico Maracanà e oggi abbiamo vinto 7 a 3 contro l'atletico San Lorenzo è stata una partita dura inizialmente fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla subito abbiamo pagato un po' a livello di fiato dato che abbiamo giocato 7 contro 7 quindi le squadre sono subito allungate il risultato è stato abbastanza ampio in ogni caso la squadra ha giocato bene abbiamo costruito tanto e abbiamo anche sbagliato nella sottoporta però fin quando riuscivamo a tenere gli avversari a distanza è stato buono qui va bene così buonasera a tutti